Il latte materno rappresenta il miglior alimento per i neonati perché fornisce tutti i nutrienti di cui hanno bisogno nella prima fase della loro vita e riduce, secondo alcuni studi, il rischio di numerose patologie. Un accordo sottoscritto tra il Comune di Napoli e l'Associazione Germogliare Onlus dà il via al servizio di donazione e raccolta del latte materno a domicilio per l'alimentazione dei neonati prematuri. Si intitola Mamma Napoli e nasce per implementare il progetto inaugurato ad ottobre scorso presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Fatebene Fratelli. La prima banca del latte materno in Campania è un'iniziativa realizzata con i fondi raccolti nel 2012 attraverso l'asta di solidarietà promossa dal cardinale Crescenzio Sepe. Una struttura capace di gestire il ciclo del latte materno, che significa raccogliere latte da mamme che donano del latte a favore dei neonati che ne hanno più bisogno e salvare così delle vite umane dei neonati prematuri che possono così essere alimentati con il latte materno e non con alimenti per vena che sarebbero molto più invasivi. Abbiamo in qualche modo provato a colmare un gap che ci divideva anche dalle altre regioni italiane laddove in molte terapia intensiva neonatale. È disponibile questo servizio in Campania, nonostante l'elevata natalità e il gran numero di reparti di terapia intensiva neonatale, in questo modo siamo i primi adesso. Attraverso la partecipata Napoli Sociale, il Comune garantirà le attività di trasporto necessarie alla realizzazione del progetto, dal ritiro dei campioni di latte presso il domicilio delle mamme donatrici alla successiva consegna presso l'ospedale. In collaborazione con la Ollus l'amministrazione effettuerà inoltre un'efficace campagna di comunicazione per diffondere l'iniziativa. La prima banca del latte materno nella città di Napoli che mette insieme il mondo del volontariato, dell'associazionismo, l'ospedale Fatebene Fratelli di Napoli, il Comune di Napoli, una bella cosa che sta già dando i suoi risultati, un protocollo firmato. Ringraziamo Napoli Sociale per il contributo anche che dà per il trasporto e per il supporto organizzativo e strumentale, quindi insomma una bella notizia da diffondere. Bisogna sapere che le mamme in un momento straordinario della loro vita, che è la maternità, possono donare latte materno ad altri bimbi in difficoltà, quindi un gesto d'amore che si moltiplica. Per i neonati prematuri anche piccole quantità di latte sono preziose. Tutte le mamme in buona salute e che allattano da meno di sei mesi possono diventare donatrici contattando l'indirizzo email info-mammanapoli.it o chiamando al numero 340-6621-397.